Ora, mi chiamo Leonardo da Aro, tengo 26 anni. Come? 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 Por qué quieres ser model? Porque siempre me gustaba, es mi sueño, tener buena aprendizaje. per me piace molto, mi piace molto, la mia passione, io penso che non è normale, è uguale, siamo uguali, siamo uguali, siamo uguali e siamo uguali, possiamo levar, io sono solo, però non possiamo levare la data, mi piace, mi piace. In questo casting, come ti sentiste, il processo? Tutto, 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 senti meglio, senti, senti come dire, speriamo nel futuro, a lo migliori, siamo uguali, siamo uguali, siamo uguali, siamo uguali, siamo uguali, siamo uguali. Grazie a tutti.